Il risanamento della sanità abruzzese è stato avviato solo da questo governo regionale di centrodestra, lo stesso che ha portato l'Abruzzo a raggiungere per la prima volta il pareggio economico-finanziario. Altre versioni più o meno suggestionanti fanno parte della propaganda che vuole coprire imperizie e inadembienze. Lo spogo è dell'assessore regionale alla sanità, Lanfranco Venturoni, che si dice stufo di sentire esponenti del centro-sinistra vantare meriti sulla paternità delle politiche di risanamento. Venturoni prende a riferimento la delibera 354 del 2008 in applicazione della legge 20 del 2006, quella che il centro-sinistra indica come la madre di tutte le delibere per il riordino del settore. È stata pubblicata con un anno di ritardo nel 2009, nonostante il piano di rientro fosse stato sottoscritto nel 2007. Atto poi impugnato dalle cliniche private e dichiarato illegittimo dal TAR nel 2010. Altro flop del centro-sinistra, la legge 32 del 2007, che fissa regola per gli accreditamenti alle cliniche private, è diventata operativa solo nell'ottobre 2009, grazie all'iniziativa del commissario d'acta Redigolo. Venturoni poi accenna al commissariamento, seppur in fase di rientro, non sarebbe stato necessario. È accaduto perché il governo Prodi, di centro-sinistra, in sede di monitoraggio di attuazione del piano di rientro nel febbraio 2008, prese atto delle profonde inadembienze della giunta regionale di centro-sinistra. A leggere gli atti, conclude Venturoni, appare chiaro che ha risanato e che ha chiacchierato e mentito. Il governo Chiodi, di centro-destra, ha cominciato l'attività di risanamento, riconosciuta dal governo nazionale che, nel mese scorso, ha escluso l'Abruzzo dal novero delle regioni, ancora inadembienti, escludendola da un ulteriore inasprimento fiscale. Un'azione di risanamento che lo stesso ministro Fazio ha pubblicamente riconosciuto. Grazie.